Ci sono luoghi dove la tradizione rompe gli schemi del tempo. Il tempo che nulla ha potuto sulla memoria della gente. Un viaggio che collega due città patrimonio dell'umanità. Questo viaggio nel tempo e nello spazio tra due città bellissime. In mezzo l'appennino tosco emiliano, natura protagonista. Fermarmi ad ascoltare, guardarmi attorno, allargare o stringere l'angolo della visuale. Libertà. Si passa anche attraverso un selciato di strada romana, quindi c'è un aspetto anche di transappenninica. Borghi e gioie culinarie tra le più apprezzate al mondo. Condividere la fatica e le emozioni con tante persone, incrociate sul cammino e che dopo il viaggio a volte diventano amiche. Un tracciato storico, un passato mitico, tramandato nei nomi dei luoghi di generazione in generazione. Fino a trasformare gli spazi terreni nello scenario del soprannaturale. Tutto questo è la via degli dèi.